La preoccupazione è fondata rispetto alla scadenza naturale del contratto che sarebbe quella del 31 luglio. Come è messo già in evidenza, il 31 luglio non sarà la data di scadenza per ovvi motivi, non fosse altro per i tre mesi che sono stati chiusi gli impianti sportivi delle Naidi. È un falso problema quello del 31 luglio, sono stati interpretati in maniera incredibile il fatto che io abbia detto tre mesi. Tre mesi sono quelli di chiusura dell'impianto, pertanto quei tre mesi sono obbligatoriamente da recuperare, ma non significa che è tre mesi la proroga, non significa che abbiamo dato per scontato che siano tre mesi di proroga. Abbiamo dato per scontato che tre mesi saranno importanti per decidere il futuro delle Naidi e che bisognerà scegliere tra varie opzioni, quella della proroga oppure quella di un nuovo bando. Certamente quella del nuovo bando mi sembrerebbe in questo momento la più difficile da perseguire come ipotesi, nell'attesa di una definizione del project, project che ad oggi non è più attuale alla luce delle misure restrittive del contenimento dell'emergenza coronavirus. Pertanto stiamo rivalutando il project così come i proponenti lo hanno riconfezionato, di fatto stiamo parlando quasi di un nuovo project da valutare. Lo valuterà la Commissione Tec, lo valuterà il RUP che è sempre lo stesso, l'ingegnere Pagliaro. Pertanto io andrò avanti su questa strada che è quella della valorizzazione delle Naidi, della non chiusura delle Naidi. Quindi è quello che dirò anche ai sindacati, è quello che dirò alle parti politiche, è quello che dirò a tutti coloro che evidentemente non sanno cosa si è fatto nell'ultimo anno per quanto riguarda le Naidi per intanto consentire una apertura delle Naidi, la riapertura delle Naidi e riconsegnarla alla città Pescara e all'Abruzzo. E poi quello che si sta facendo perché rimanga aperta.